Il coronavirus non fa sconti neanche al settore aereo con ricadute importanti anche sulle aziende dell'indotto. Tra queste c'è senza dubbio l'EMA di Mora de Sanctis. Infatti nelle ultime settimane la Rolls-Royce ha scritto all'azienda Altirpina per chiedere di intraprendere una consistente ristrutturazione della pianta organica in funzione del calo delle commesse. Infatti alcune aziende e clienti di EMA hanno già annunciato importanti riduzioni di produzione. A questo si aggiunge il rischio e l'onere economico che a causa dell'emergenza sanitaria le compagnie aeree dovranno sostenere per l'adeguamento della sicurezza. Decisa in merito la posizione delle RSU aziendali e delle segreterie territoriali di FIMCISL e FIOMCGL. La buona notizia dicono dai sindacati è che la preoccupazione del ridimensionamento della pianta organica è scongiurata per i dipendenti di EMA e POEMA. Infatti grazie al ricorso agli ammortizzatori sociali siamo in grado di assicurare la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali. Questi indicatori ci offrono l'evidenza di una crisi conclamata del settore aerospaziale i cui effetti si preannunciano pesanti ma di incerta durata. Tant'è che non si esclude un inizio di ripresa nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno in corso. La qualcosa permetterebbe il rientro al lavoro dei 12 dipendenti in somministrazione che nei giorni scorsi non hanno ottenuto la proroga del contratto. La situazione è seria ma non drammatica continuano dai sindacati e necessita di una gestione che sia pragmatica, trasparente e coerente con l'obiettivo di riportare questa eccellenza dell'industria irpina ai fasti e alla prosperità che le sono congeniali. Ed è per questi motivi che oggi più che mai le organizzazioni sindacali si rendono disponibili a concordare tutte le iniziative necessarie volte a preservare il lavoro e l'occupazione perseguendo un modello di relazioni partecipative improntate alla responsabilità. Occorre, concludono i sindacati, stipolare un patto di collaborazione che veda coinvolti i sindacati, le istituzioni e l'azienda prendendo ad esempio il modello virtuoso già collaudato nella fase di messa in sicurezza propedeutica alla riapertura dello stabilimento.